. Grace Anatomy, lo sconvolgente promo della 14x23. Sono bastati 35 secondi per gettare i fan di April Kepner e dell'intero fandom di Grace Anatomy nello sconforto totale. . Ieri notte, infatti, subito dopo la messa in onda del 22esimo episodio della serie, è stato trasmesso il consueto promo che racchiude le scene salienti della prossima puntata. . Stiamo parlando del penultimo episodio della quattordicesima stagione di Grace Anatomy, la 14x23, che già da due settimane si preannuncia sconvolgente. . La trama della 14x23 di Grace Anatomy . . La trama della puntata è stata rilasciata già alcune settimane fa, ed oltre al graditissimo ritorno dell'attrice premio Oscar Jane Davis nello ruolo della dottoressa Nicole Herman. . . Anticipava un disastro imminente, uno dei chirurghi del Grace lo ha a memoria l'ospital è severamente ferito. . Poche parole che hanno scatenato il malcontento dei fan soprattutto alla luce dell'ormai certa uscita di scena della dottoressa April Kepner la cui interprete. . Sara Drev, è stata licenziata alcuni mesi fa. . Seppur abbastanza scontato che la trama si riferisse al suo personaggio, i più affezionati fan non hanno smesso di sperare che l'anticipazione fosse rivolta a qualcun altro medico. . Ma le illusioni sono state definitivamente spazzate via dal promo rilasciato dalla bici. . Promo 14 x 23, April Kepner gravemente ferita. . L'episodio che andrà in onda giovedì 10 maggio è destinato a rimanere nel cuore dei fan di Grace Anatomy per moltissimo tempo. . . Pare infatti che verrà delineata in tutta chiarezza l'uscita di scena del personaggio di April Kepner. . 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 Possibile che la storiline dell'amata April Kepner avrà un epilogo così nefasto? La sola cosa a cui i fan di Grey's Anatomy possono aggrapparsi. Sono le parole di Ellen Pompeo che in una recente intervista ha dichiarato che il finale di stagione non sarà tragico. . Non ci rimane che aspettare la prossima settimana e sperare per il meglio. .